Ci sono voluti 12 lunghissimi anni ma alla fine si è arrivati alla giudicazione dei lavori eseguiti su via Turati, l'arteria stradale che era finita nel dimenticatoio. La commissione esaminatrice ha proceduto questa mattina alla valutazione delle tre offerte economiche pervenute con la procedura negoziata e ha proposto la giudicazione della ditta Zappo e Benedetto SRL con il criterio del minor prezzo con un ribasso del 5,50%. La fase procedurale prevede ora la determina dirigenziale per l'approvazione del verbale di gara con la relativa giudicazione e la stipula del contratto. Per i primi di settembre il sogno diventerà realtà. L'intervento è un importo a base d'asta di 611.814,40 euro di cui 20.993,65 per onere di sicurezza non soggetti a ribasso. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di circa 7 metri, un sistema di rinforzo nella parte alta, la stabilizzazione della scarpata con l'installazione di micropali che dovranno sorreggere il muro di contenimento. Era il 10 gennaio 2009 quando si verificò l'evento franoso sull'importante arteria stradale. Da allora si sono susseguiti annunci, progetti a metà, continue proteste, contanto gli striscioni sulla via De Franati, come ebbero a dire residenti, oggi le parole hanno ceruto il passo ai fatti, ha commentato con soddisfazione l'assessore comunale Salvatore Zavarella.